La biografia di Rushen Fa piacere caro Atanasia, sono veramente contento di conoscerti e spero che lavoreremo bene insieme, basta che non mi pesci i piedi Non perdiamo tempo, dove sta la Supret? Ma figlio mio come corri tu, va bene che sei un cavallo da corsa, ma mo' corri forte, beh adesso te la presento eh Abbaffala si quanta e cagliarda